Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Campagnolo, volevo oggi affrontare, almeno in questa prima parte, una fase della respirazione, o almeno descrivere quali sono i tipi di respirazione comunemente usati e qual è quella che maggiormente dovrebbe essere utilizzata per suonare il nostro strumento, il clarinetto. Allora, vi è una respirazione alta, clavicolare, che si nota quando noi facciamo ad esempio alzare le spalle, è una respirazione troppo, un'ispirazione troppo superficiale, perché in camera poca quantità di aria, quindi i polmoni sono poco riempiti di aria, è una respirazione molto ansiosa, molto continua, non è rilassante per niente, quindi è un tipo di respirazione che non va bene per gli strumenti a fiato. Addirittura, quando noi usiamo questo tipo di respirazione, quindi quando immagazziniamo poca aria e facciamo alzare di conseguenza le spalle, addirittura c'è un rientro del nostro addome, quando poi, come vedremo dopo, nel tipo di respirazione che ci serve per suonare lo strumento, deve essere al contrario, l'addome si deve gonfiare. Allora, il secondo tipo di respirazione che si usa è la respirazione media, ed è quella che fa alzare il petto. In questa respirazione si ha un po' più di aria, ma diciamo ha scarsa potenza questa aria, la pancia si gonfia pochissimo per niente, quindi neanche questo tipo di respirazione è adatto per suonare uno strumento a fiato. Vi è appunto un terzo tipo di respirazione, che è la respirazione bassa, ed è quella poi su cui ci concentreremo, perché è quella più adatta agli strumenti a fiato, quindi anche al nostro clarinetto, ed è quando i polmoni i polmoni, la parte bassa dei polmoni, che sono, che hanno una dimensione più grande della parte alta, sono completamente riempiti. Cosa succede quando noi riempiamo i polmoni, la parte bassa dei polmoni. Siccome i polmoni sono attaccati a un muscolo chiamato diaframma, che ha questo aspetto, è come una cupola, che quindi è sotto i polmoni, e che può oscillare due o tre centimetri, i polmoni che sono pieni cosa fanno? Spingono, spingono verso il basso questo muscolo, questo diaframma, iniziando a creare la pressione interna che poi ci servirà per spersonare il nostro strumento. Quindi il diaframma, che è spinto dai polmoni pieni, si abbassa di due o tre centimetri, e quindi tutto quello che c'è dentro la nostra pancia, viene ovviamente schiacciato verso il basso, e di conseguenza si vede, fisicamente a occhio nudo, che la nostra pancia inizia ad espandersi, o che si gonfia. Questo significa che noi abbiamo inspirato in modo corretto, ok? Allora, c'è chi definisce questo tipo di respirazione di diaframma, ma siccome per molti appunto non si vede nemmeno dove è questo diaframma, che forma c'ha, io preferisco chiamarlo, chiamarla respirazione di pancia, perché appunto si deve vedere che la nostra pancia, quando inspiriamo, si deve un pochettino espandare, gonfiare, ok? Quindi questo è il tipo di respirazione che dovremmo adottare quando suoniamo uno strumento a fiato, quindi anche il clarinetto. Vi è un quarto modo di respirazione, ed è la respirazione totale. Non è altro che i tre tipi di respirazione che ho appena descritto, ma in modo inverso, cioè si inizia a ispirare e quindi riempire la parte bassa dei polmoni, poi infine la parte media e poi la parte alta. In questo caso abbiamo la respirazione totale, quella che si usa nella pratica dello yoga, ok? Però questo tipo di respirazione, anche se io vi invito a utilizzarlo, ma non per suonare, perché appunto avendo un tempo molto lungo, quindi se vogliono alcuni secondi per riempire totalmente appunto i polmoni, non è un tempo molto breve, perché la musica richiede tempi molto stretti appunto. Vi è infine un altro tipo di respirazione, su cui ci soffermeremo pure, ed è la respirazione circolare. La respirazione circolare si può effettuare soltanto se si utilizza la respirazione bassa, quindi la respirazione di pancia, è impensabile voler effettuare una respirazione circolare respirando con la parte alta o media dei polmoni. Se volete approfondire gli argomenti di didattico o pedagogia, vi invito a leggere questo libro. Alla prossima!